In occasione del 75esimo anniversario della liberazione viene resa accessibile online un'anteprima del portale internet Partigiani d'Italia. Il portale consente in questi giorni una prima parziale consultazione delle schede nominative relative alle richieste di riconoscimento delle qualifiche partigiane compilate nel dopoguerra dalle apposite commissioni regionali. Attualmente queste schede fanno parte del fondo archivistico del servizio riconoscimento qualifiche e ricompense ai partigiani, il cosiddetto RICOMPART conservato all'archivio centrale dello Stato. Il progetto di mettere a disposizione degli studiosi e di tutti i cittadini interessati questa importante fonte ha preso avvio nel 2017 su impulso e finanziamento della Direzione Generale Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Ed è stato realizzato dall'Istituto Centrale per gli Archivi in collaborazione con la Scuola Normale Superiore che ha fornito il supporto tecnico informatico e con il prezioso contributo di conoscenze dell'Istituto Piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea Giorgio Agosti Istoreto e dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Il progetto ha previsto innanzitutto la digitalizzazione delle più di 700.000 schede che compongono gli schedari delle commissioni. Qui si è affiancato lo sviluppo di una banca dati nominativa che riporta le informazioni essenziali contenute nelle schede. Si tratta di informazioni che in realtà variano molto da commissione a commissione ma che in genere, oltre ai dati anagrafici degli interessati, si riferiscono al periodo di inquadramento nelle formazioni partigiane e all'iter burocratico del riconoscimento. La banca dati comprende anche un'apposita sezione dedicata a censire le formazioni partigiane e a dare conto sinteticamente delle loro complesse vicende nel corso dei mesi della guerra di liberazione. Si tratta quindi di un progetto ampio e articolato del quale è stata parte integrante anche l'attività di studio e di ricerca che ha atteso ad analizzare in primo luogo la legislazione per il riconoscimento dell'attività partigiana varata già nel corso della resistenza e poi negli anni della repubblica e in secondo luogo ha mirato ad indagare l'attività delle commissioni e i diversi criteri da esse adottati nello scrutinio delle richieste di riconoscimento. Sono stati infine anche ricostruiti i processi di sedimentazione e la storia della documentazione prodotta dalle commissioni, una storia caratterizzata da complesse vicende non ancora del tutto chiarite che nel corso del tempo hanno determinato la concentrazione delle carte delle commissioni regionali o almeno di una parte di queste carte a Roma, hanno determinato trasferimenti fra vari uffici romani, riorganizzazione degli schedari e dei fascicoli finalizzati a loro nuovi usi. Si tratta quindi di vicende la cui ricostruzione è fondamentale per una valutazione critica degli schedari e anche per un utilizzo consapevole delle informazioni ivi contenute. Il portale quindi si propone di dare accesso ad una fonte di indubbia importanza che può essere consultata, studiata e interpretata da vari punti di vista. Innanzitutto essa fornisce uno strumento di conoscenza delle donne e degli uomini che hanno partecipato alla lotta di liberazione. Un quadro certamente non esaustivo perché non tutti i partigiani chiesero il riconoscimento e qualcuno ebbe riconoscimenti forse non del tutto meritati. Un quadro quindi condizionato anche dal contesto del dopoguerra, ma non per questo meno significativo, proprio perché riflette non solo le vicende della lotta partigiana, ma anche la politica sviluppata nei confronti dei partecipanti alla lotta di liberazione e l'evoluzione di questa politica nel corso degli anni. E' quindi anche un documento della costruzione della memoria pubblica della resistenza nel mutare del clima politico e civile della Repubblica. Nell'anteprima del portale è possibile consultare in questi giorni i dati relativi a circa 205.000 schede che sono state finora sottoposte ad un'accurata revisione. Le schede appartengono alle commissioni Piemonte, Liguria, Lazio, Campania, Emilia e Marche. Nei prossimi mesi continuerà il lavoro di implementazione della banca dati e l'intero portale sarà reso accessibile definitivamente a partire dall'8 settembre 2020, quando sarà possibile consultare, previa registrazione gratuita, anche le riproduzioni digitali delle schede originali. Dopo il 2 maggio prossimo resteranno comunque online le pagine del portale Frutto del lavoro di studio e di ricerca dedicate al fondo archivistico, alla legislazione, alle commissioni regionali, alle formazioni partigiane e alla storia del progetto. Quindi buona ricerca, buona lettura e soprattutto buona festa della liberazione.